No, piemontese. Piemontese a casa mia con i miei genitori si parlava sempre piemontese. Presidente, allora come valuta questo risultato? È un risultato estremamente positivo che premia il lavoro che abbiamo fatto, l'impegno di tutta la coalizione, peraltro rispecchia, adesso voglio vedere poi i numeri definitivi, però rispecchia anche il dato delle europee, quindi non c'è stata una flessione, c'è stata una costante. E credo che sia un bel segnale, anche un carico di energia positiva, ma anche una grande responsabilità, perché da domani bisogna lavorare al nuovo Piemonte e mettere in pratica le cose che ci siamo impegnati a fare. Presidente, lei che conosce bene l'Europa, essendo stato un europarlamentare, non teme un po' questa divisione del centro-destra italiano in Europa e dunque questa Liga in un eventuale gruppo dei sovranisti e forza Italia invece che poi resta in un...